5 Spursgate, ha preso posto ancora, bigo tutto 30 partiti, rimane un po' più in partenza Leggiabria all'interno, veloce Gigi Luri all'argo, fatto partenza Aureos, terza posizione, si sistema l'ora bigo in quarta battle, con all'interno l'ora bigo all'argo Leggiabria e in coda Spursgate, all'interno per questo tipo di 200 di gara, un grosso fila piegata con Aureos in vantaggio, l'ora bigo si si lancia all'interno, all'argo rimane Gigi Luri quindi l'or blue battle, con l'ora che sono altri quarti della piegata conclusiva Aureos al comando nei confronti di Gigi Luri, per questo sterno si lancia battle, insieme a l'or blue all'interno rimasta invece l'ora bigo, per indietro c'è Spursgate, Aureos che non lo spettate ancora in vantaggio nei confronti di l'ora bigo che provano l'incorso, ma è chiaro il margine di Aureos nei confronti di l'ora bigo, Spursgate che finisce bene in mezzo alla pista, Aureos che mantiene inalterato il suo vantaggio, vince Aureos davanti a Spursgate, qui sul traguardo per il ciego e l'ora bigo, 6-3-4, verso l'occhio se non mi arriva ufficioso per quanto riguarda la seconda corsa del pomeriggio, da un capo all'altro Aureos, i colori sono quelli del signor Filippo Toti, il treno di Sebastiano De Loda, Alessandro Seul in Norsella, 11-36 la quota Alla fine ha vinto quello che non ti aspetti, Aureos, il cavallo meno giocavo, quello che addirittura ha passato in una doppia cita, aveva un riferimento con tutti gli altri e sopra